Ci sono persone che sulla strada ci lavorano dalla mattina alla sera. Si può dire che quasi ci vivono. Quando pensiamo alla strada pensiamo proprio a loro. Sono gli autotrasportatori, una categoria di lavoratori che abbiamo imparato ad apprezzare meglio solo durante il periodo della pandemia. Nell'area industriale di Motto, là in zona San Basilio, a poca distanza dalla strada statale Cento, c'è una delle più grandi aziende del territorio che si occupa di trasportare i prodotti della terra di Puglia in giro per l'Italia, la Svizzera, la Francia e la Grecia. Francesco è il titolare e bene conosce i rischi di quella strada. Ci sono delle strade che quando sono state costruite sono state costruite male, tipo quello che sta succedendo sulla statale Cento, ogni giorno ci sono incidenti purtroppo mortali. Ci sono degli errori, non ti vogliono ammettere, dalla salita di Motto l'esempio che c'è una curva a sinistra dove quando tu stai facendo questa strada ti tira a sinistra, poi c'è la controcurva scendendo che ti tira a sinistra e succedono sempre incidenti frontali. Francesco conosce la strada statale Cento meglio della sua camera da letto, conosce i suoi rischi e i suoi pericoli. Da Gioia d'Alcole per arrivare giù a Palagiano quasi quasi la sappiamo metro metro la strada. Secondo me la soluzione può essere l'autostrada. Perché? Perché se noi, è un'idea, se noi a Bari Nord si metteva la barriera per tutto diciamo Bari Nord come sta, sia in uscita che in entrata e da Bari Nord il traffico si spingeva verso Taranto con l'autostrada senza pagare il pedaggio, sarebbe già una strada fatta, una strada che collega Bari sulla Cento 6 e sarebbe una delle soluzioni migliori.